Dopo dieci anni, dal 12 al 15 settembre prossimi, ritorna a Cosenza la festa dell'unità. Cinque giorni di dibattiti e di intrattenimenti, come hanno spiegato gli organizzatori. Un incontro da non perdere sarà quello del 12 settembre, dove si parlerà di sanità alla presenza di esponenti regionali del Partito Democratico, del presidente degli ordini degli infermieri della provincia di Cosenza, Fausto Sposato, del direttore generale dell'azienda ospedaliera di Cosenza, Vitaliano De Saralzar, e di quella dell'Asp, Antonello Graziano. Questo ospedale ormai tutti sappiamo che non riesce a dare i livelli minimi di assistenza, quindi vogliamo dibattere su queste questioni e chiediamo da questa festa e da questo dibattito che si svolgerà appunto il giorno 12, che la Regione Calabria faccia fino in fondo la sua parte. Non può continuare a stare in silenzio. Qui la gente entra nel pronto soccorso e non sa come esce dal pronto soccorso e quali cure si intendono dare a chi ne ha bisogno. Naturalmente un altro tema che sarà dibattuto sarà quello sull'autonomia differenziata alla presenza dell'eurodeputato Antonio De Caro. Anche lì è un tema molto scottante perché l'Italia non può essere divisa in due. Il giorno 14 sarà sulle infrastrutture, anche qui apprendiamo ormai quotidianamente che l'Italia viene divisa in due. L'alta velocità per esempio non passerà più per la Calabria, almeno così sono le informazioni che leggiamo sulla stampa. La quattro giorni di dibattiti e confronti si concluderà ovviamente con un tema che ha e sta animando il confronto politico dell'area urbana. La città unica tra Cosenza rende e Castro libero. Da qui vogliamo, l'obiettivo è quello di mandare un segnale forte, non solo alla città di Cosenza che governiamo e che stiamo governando bene, ma all'intera provincia e all'intera Calabria. Da Cosenza, e non solo da Cosenza, così come sta facendo il nostro segretario regionale, creare un'alternativa forte, autorevole e credibile al governo regionale prossimo. Occhiudo non può continuare a girarsi all'altra parte o fare finta di non sentire. Ci sarà anche un evento speciale in cui parleremo della figura di Fausto Gullo, ci sarà una ristampa sul numero monografico della lotta calabrese quando ci fu stato un incontro nel Citrigno per il trigesimo della morte di Fausto Gullo. Quindi ripubblicheremo questa ristampa e daremo avvio all'interno della festa di unità ad un altro evento che poi sarà nel mese di ottobre e che servirà per celebrare la morte di Fausto Gullo. Grazie a tutti.